I play Pokemon Go every day Ciao a tutti ragazzi, come va? Come sempre qui agonista Benvenuti in un nuovo video di Pokemon Go Oggi, come da titolo, ragazzi, parliamo delle lotte Go Andiamo a vedere un attimo il calendario e quello che ne penso io Sono cambiati anche un po' di moveset, ma ne parleremo subito dopo Ricordo anche che il 12 gennaio inizia l'evento Sinno E Gamericcio, uno youtuber con cui sto collaborando Ha fatto un video speciale su questo evento Spiegando che Pokemon potrete andare a trovare Quindi vi consiglio, il link in bio, il suo video Andatevelo a vedere Veramente utile e veloce Per vedere che Pokemon andare a catturare Soprattutto se siete nuovi, se vi interessa qualcosa Comunque il mio consiglio principale, se siete nuovi E' quello di catturare tanti Star Perché sono quelli che comunque sono Pokemon solidi per le lotte Detto questo, andiamo subito a catapultarci nel calendario delle lotte Go Facciamo la premessa Siamo ancora nella season 6 Quindi non si azzerano i livelli come succedeva per tutte le altre season Quindi non fate come me Che ho un po' provato vari team Per vedere un po' come andare a girare Quindi ho perso un po' di punteggio Ma cercate di rimanere up nel punteggio Perché, come ho detto prima Rimarrete al livello in cui siete al momento Detto questo Andiamo subito a vedere il calendario delle leghe E l'11 gennaio avremo l'inizio della Lega Mega Che durerà fino al 25 gennaio Questa qui è una delle leghe top Per chi ha appena iniziato Perché i Pokemon sono almeno a 1500 PL o inferiori Quindi sperimentate i team Seguite insomma le lotte che porteremo sul canale E cercate di stare al passo con gli altri giocatori E' il top per voi per iniziare Dal 25 gennaio all'8 febbraio La Lega Mega lascerà spazio alla Lega Ultra Raga Veramente interessante Come Lega è una delle mie preferite Ci sarà, oltre alla Lega Ultra Open Quindi anche con i leggendari Quella Premier La Premier Cup dove i leggendari misteriosi Non sono ammessi E dunque anche i giocatori che non hanno giocato tanto E non hanno molti Pokemon leggendari da ride Possono veramente fare loro E a mio parere Se sei a un livello dal 30 al 35 così Puoi competere benissimo in questa Lega Quindi a voi la lotta Raga Dal 8 febbraio al 15 febbraio Raga Inizia la Lega Master Che si dividerà in tre coppie differenti E cioè la Lega Master Open Con le caramelle XL Quindi le caramelle che possono essere usate Dai giocatori che sono già a livello 40 superiore La Lega Master Premier Senza le caramelle XL Quindi no leggendari No caramelle XL Quindi quella è dove ci butteremo Diciamo noi che non siamo ancora a 40 E la Lega Master normale Senza caramelle XL Dove si butterà chi ha un po' di leggendari utili Da buttare in PvP Io personalmente mi butterò nella Premier Cup Perché come sapete mi piacciono di più le lotte Senza leggendari Dal 15 al 22 febbraio Avremo tutte le leghe disponibili Quindi top Raga per allenarci Io comunque consiglio Anche io per esempio Mi sono allenato con i team Perché tanto so che non arriverò al momento Super al top A livello 24 Perché non ho ancora delle squadre utili In tutte le leghe Quindi cosa faccio? Sistemi i miei team Capisco quale mosse utilizzare Cerco di investire Per poi nelle prossime season Arrivare più in alto La Kanto Cap ragazzi Ritorna il 22 febbraio Dal 22 febbraio all'1 marzo Riavremo l'apparizione della Kanto Cap Che se vi ricordate ne ho parlato nella season 5 E ho spiegato quali Pokémon Mi opereranno i migliori Fatemi sapere nei commenti Se volete magari qualche building di team Un video dedicato a questa cosa Quando si avvicinerà la Coppa Kanto Penso che lo farò comunque Ma fatemelo sapere nei commenti Perché è sempre utile E una cosa utile È che dal livello 19 Se non ci siete ancora arrivati Verrà dato E MT foriclasse attacco caricato Che è una delle più utili E a livello Alla fine della stagione MT foriclasse veloce A livello 20 invece Dal 20 superiore Ci sarà la comparsa Del nuovo Pokémon Se vincete 3 lotte E è Freelish Quindi raga Andate Cercate di raggiungere il livello 20 Anche se siete un po' Con dei team un po' X Combattete Fregatevi delle route Eccetera Non servono a nulla Fate polvere Trovate nuovi Pokémon utili Buone stat Quindi raga Io consiglio di giocare E adesso Parliamo delle mosse Che ci sono un po' di cambi Raga Per quanto riguarda Diciamo quelli che voglio segnalare io Perché ci sono Pokémon Che hanno imparato nuove mosse Ma quello Diciamo Top È Drillbur Che abbiamo trovato un botto Questa settimana A colpo di fango Come nuova mossa Che sarà veramente utile Soprattutto in Lega Master Per counterare I Metagross Raga Sarà veramente Il suo La sua spina nel fianco Il suo tallone da kill Quindi Chi ne ha trovato di buoni Con statistiche Vicino alla perfezione Vada a buildare Per la Master Poi volevo segnalare Anche che Premape Avrà già lo pugno Premape è un Pokémon Che non si è Calcolato tanta gente A mio parere Comunque è buono Sapete che mi gasano Un botto i Pokémon Lotta I Pokémon buio Quindi Premape Comunque I Pokémon Preferiti A livello di design Infatti Non ho scambiato da poco Uno Con uno scambio fortunato Che fortuna E ha nel suo nuovo moveset Giallo pugno Quindi Veramente Sarà interessante Vederlo Spero di portarlo Nella Lega Mega Detto questo Raga Andiamo a vedere Gli attacchi Che sono stati Inerfati E quello che spunta Su tutti Se guardate i video È bolla Che è super usato Come mossa veloce Da Azumarill Questo lo nerfa Tanto Ragazzi A mio parere Non troppo Perché comunque sia Azumarill Ti tira giù Con gli attacchi caricati E quindi Può comunque Fare il suo Nella Lega Mega Hanno cercato di nerfarlo Perché altrimenti Tutti lo usavano Tutti però lo usano C'hanno almeno Un Azumarill Buttato dentro In ogni team Per cercare di Salire Il più velocemente Le classifiche Quello che secondo me È stato più nerfato È Scarmory Con Arrattacco Perché Arrattacco È effettivamente Una mossa caricata E dunque Nerfarla Porta Degli svantaggi Grossi Secondo me In competitivo Vedremo Quando inizierà La season Altri Attacchi nerfati Sono Frana Che veniva Strausato da Machamp Però veniva usato Da Machamp Per counterare I Pokémon volanti Dove è super efficace Quindi a mio parere Comunque sia Farà il suo Lo stesso Non era un attacco Che toglieva troppo Quindi Verrà spammato A manetta Comunque Tenetelo A mio parere E spammatelo E Foglie Lama Che era usata Come mossa veloce Da Venosaur Questa A mio parere Anche per Venosaur Potrebbe essere Un'incognita Perché Venosaur Ti tirava giù Tanto con la mossa veloce E quindi potrebbe essere Nerfato Un tot Anche se comunque Con Radicalbero A mio parere Farà sempre Suo lavoro Che come vedete In tutte le leghe Veramente Venosaur È uno dei mostri sacri Per le lotte Go Cercate di averlo Con Radicalbero Che è una mossa Fuoriclasse Detto questo Raga Andiamo a vedere Che Bracere È stata messa Come mossa Che toglie più danni Quindi Hanno implementato I Pokémon Fuoco Che come dicevo Erano un po' Svantaggiati L'ho detto nel video Dei migliori Aggiornamenti interessanti E porto building Di squadre Nelle immagini Così che le trovate Più velocemente E inoltre Iscrivervi al canale Telegram Dove organizziamo Ride E parliamo di PvP Per buildare le squadre Magari mandate la scheda Dei vostri Pokémon E insieme si discute Su come potreste giocare Ciao a tutti ragazzi Come sempre qui Il vostro solito agonista Bella lì Ciao